Allora, oggi mia moglie ha fatto del riso, riso primavera, anche se siamo in inverno. Allora, per fare questo riso, guardate che bello, è già pronto, vi dico gli ingredienti, aglio e cipolla, soffriggere, poi ha messo delle olive, una carota, un peperone e del cavolfiore. Ed ecco pronto, non c'è altro, vero Doina? Non hai messo altro? Allora, praticamente hai fatto soffriggere l'aglio e la cipolla, hai messo una carota a pezzettini, delle olive sminuzzate, un peperone a pezzettini e il cavolfiore, quindi un po' d'olio, sale, pepe e il piatto è pronto. Buon appetito a tutti!